Con questa unità didattica si conclude il modulo relativo alla diagnosi basata sulla logica e presenteremo un approccio alla diagnosi più direttamente legato alla decisione stessa di diagnosi come ragionamento abduttivo. Partirei dalla constatazione che la diagnosi basata sui principi primi, come l'abbiamo presentata a noi nell'unità didattica precedente, ha dei problemi perché ammette delle diagnosi che se facessimo uso dei faulty models magari riusciremmo a eliminare e sarebbe bene farlo perché sono diagnosi che non sono accettabili. Supponiamo per esempio di avere un semplice circuito con tre lampadine in parallelo alimentate da un generatore in corrente continua, o alternata non fa niente, dunque che cosa abbiamo? Abbiamo che se abbiamo due lampadine spente, delle tre collegate in parallelo e una regolarmente accesa, ostante collegato il generatore, l'unica possibile diagnosi è che B1 e B2 sono guasti e questo effettivamente è una delle diagnosi che viene restituita dall'algoritmo che abbiamo appena visto. Ma l'algoritmo che abbiamo visto l'altra volta, nell'altra unità didattica, ci restituisce anche come possibili diagnosi che siano rotte il generatore e la lampadina accesa. Ovviamente non è possibile che se un generatore è rotto, essendo rotto, faccia accendere una lampadina, cioè se il generatore è rotto la lampadina non si accende. Non è che si può accendere una lampadina perché è rotta quando il generatore non sta generando corrente, cioè è un assurdo ovviamente. Cioè noi dovremmo per poter eliminare la diagnosi che dice che sta funzionando male il generatore e sta funzionando male la lampadina accesa, perché dovrebbe essere spenta, nell'ipotesi che il generatore sia staccato o sia incorto o sia bruciato, questa ovviamente deve essere eliminata. L'unico modo per eliminarlo è inserire nell'assistente description i folti model e quindi dire se X è una lampadina e è rotta, allora essa è spenta, cioè non può essere accesa. E se X è un generatore ed è acceso ed è rotto, allora la sua tensione va a zero e non può invece andare a una tensione diversa da zero. Dunque se noi emettessimo questi due folti models all'interno del system description, riusciremo effettivamente a eliminare questa diagnosi perché in pratica andremo a introdurre un assioma di impossibilità che dice che se la tensione del generatore è zero e Y è una lampadina e Y è accesa, e beh, questo ne deriverebbe una contraddizione. Allora, detto questo, cioè completato con questo concetto la unità didattica, la presentazione del tema dell'unità didattica precedente, quella sulla diagnosi basata sui principi primi, andiamo a vedere un altro approccio a diagnosi che è equivalente sostanzialmente, che però è forse anche un po' più intuitivo e è più facile forse da comprendere e anche da implementare in prologue. Torniamo quindi al concetto di diagnosi, specifichiamo un po' meglio però che diagnosi abduttiva per un sistema, una system description con un insieme di componenti che tutto sommato a questo punto possiamo trascurare, e un insieme di osservazione, possiamo dire un insieme minimale delta di assunzioni, tali per cui dalla descrizione del sistema non seguono logicamente le osservazioni, cioè il sistema non supporta dal punto di vista logico le osservazioni, le descrizioni del sistema, quindi sono osservazioni che quindi in qualche maniera rappresentano un'anomalia. Se facciamo delle ipotesi aggiuntive circa un qualche malfunzionamento, a questo punto spieghiamo le osservazioni effettivamente come conseguenza logica, ma questa aggiunta che andiamo a fare deve essere tale da non indurre in contraddizione, da non portare in contraddizione tutto l'insieme dei formali che abbiamo a disposizione, cioè in qualche maniera non dobbiamo andare a introdurre delle ipotesi che poi mi vanno a violare degli assiomi di impossibilità. quindi la parte importante è capire che noi dobbiamo arricchire la descrizione del sistema di un insieme di assiomi per poter spiegare, quindi produrre come conseguenza logica un qualche cosa che senza questo insieme di assunzioni aggiuntive non avremmo come conseguenza logica. questo è il concetto di spiegazione abduttiva e ci porta anche al cosiddetto paradigma dell'abductive logic programming, cioè estendiamo la normale programmazione logica ammettendo alcuni, inserendo alcuni predicati abducibili che non fanno parte del programma e la soluzione, quindi la spiegazione consisterà nel completare la definizione di questi predicati al fine di dimostrare una conseguenzialità logica di un gol che altrimenti non sarebbe dimostrabile, cioè in pratica le osservazioni sono il gol, il gol non è derivabile dal programma, ma aumentiamo il programma mettendoci altre clausole, quindi a questo punto deriviamo il programma, se queste clausole che abbiamo messo non contraddicono degli assiomi di impossibilità, allora abbiamo trovato una spiegazione, ovviamente però questo aumento delle clausole deve essere minimale per obbedire al principio cosiddetto del rasoio di Occam. Quindi abbiamo un programma definito che contiene sostanzialmente la system description, G è una congiunzione di letterali che sono le osservazioni, positivi o negativi, che dovrebbero essere spiegate da P ma non lo sono e quindi sono osservazioni che sostanzialmente corrispondono a un malfunzionamento. Abbiamo un insieme di predicati abducibili da cui si può andare a pescare eventualmente le spiegazioni abduttive e poi abbiamo un insieme di formule primordine che rappresentano dei constraint di incompatibilità che mi dicono sostanzialmente che hanno un ruolo simile a quello che avevano gli assiomi causali quando abbiamo parlato della pianificazione all'indietro che ci consentivano di eliminare lo sviluppo di insiemi di goal che sarebbero stati contraddittori fra di loro e qui sostanzialmente questo insieme di constraint avrà lo stesso approccio. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è andare a definire la spiegazione aduttiva che è appunto un insieme di stanze ground, di predicati abducibili tali che se vengono aggiunte al programma P sono in grado di, insieme al programma P stesso, di produrre come conseguenza logica G, sempre nel rispetto però dei vincoli di incompatibilità. Quindi quello che dobbiamo fare è realizzare un meta-interprete che lanci un interprete prolog per provare che G è conseguenza logica di P. Non giuscendoci, va da un certo repository dove ci sono i predicati abducibili, li prende, li aggiunge a P e li aggiunge in maniera incrementale fino a spiegare, fino a produrre G come conseguenza logica. Ecco quindi che dobbiamo far uso del concetto di meta-interprete. Allora andiamo quindi in... la unità didattica per... basta utilizzare un meta-interprete in prolog, l'abbiamo visto, e lo riprendiamo qui e vediamo che dobbiamo sostanzialmente, per tenerci sul semplice, fare delle modifiche abbastanza minimali. Riproduciamo sostanzialmente lo stesso schema. Abbiamo quindi un meta-interprete su tre clausole. La prima è il tappo, che è quella che valuta il fatto che stiamo dando un goal già true. Eccola qui. Però aggiungiamo degli argomenti che ci serviranno appunto per gestire l'aggiunta degli assiomi, che... l'aggiunta incrementale degli assiomi che poi mi produrrà all'indulazione delle diagnosi minimali. Dunque, guardiamolo tutto, il programma. Il programma lo chiamiamo Spiega. Diamo dei sintomi, ci deve in qualche maniera produrre... il sintomo è dato, ci deve produrre le clausole. Lanciando il meta-interprete a cui passa il sintomo. Un insieme di clausole di partenza vuoto, perché all'inizio non abbiamo le possibili cause. Qui dovrà essere uscito le cause. E poi abbiamo un contatore, qui questi due fanno parte di una machinery che ci servirà per generare delle costanti di Scolem, che saranno utilizzate per nominare dei componenti che dobbiamo supporre essere guasti, che però non conosciamo, perché non sappiamo come si chiamano questi componenti, useremo dei nomi fittizi, cioè appunto delle costanti di Scolem per nominarli. E questo contatore qui, 0, all'inizio ci serve per... serve un predicato built-in del prologue per generare sostanzialmente queste costanti in maniera automatica, ma lo vediamo fra un attimo. Il predicato abduci, quindi, prende il sintomo, che sarebbe il goal che deve dimostrare, il malfunzionamento, e ha un accumulatore per generare le spiegazioni, che poi saranno alla fine restituite al terzo argomento. E ho detto, questi due indici servono per gestire il meccanismo per la generazione automatica di costanti di Scolem. Dunque, il meta-interprete, eccolo qui, solo che abbiamo aggiunto alle tre clausole classiche del meta-interprete, quelle che... alcune che vanno poi a implementare proprio il meccanismo di aggiunta di clausole al programma. Quindi, sostanzialmente, stiamo veramente utilizzando un meta-interprete che prova a spiegare il goal. Se non ci riesce, aumenta la dimensione del programma P, aggiungendoci altre clausole per provare a spiegare il goal. Come fa a aumentare? Beh, eccole qui, le due clausole che vanno ad aumentare la dimensione del programma, sono queste due. E intanto, questa qui va a vedere se il goal che deve dimostrare è già una possibile causa. In questo caso, smette di aggiungere delle clausole. Altrimenti, va a cercare un... se il goal corrisponde a un predicato abducibile. E se il predicato... se corrisponde a un predicato abducibile, lo aggiunge come possibile causa. Con questo meccanismo, questo predicato built-in del prologue, che se dentro il goal ci sono delle variabili, le rimpiazza con delle costanti. Vediamo un attimo come funziona NumberVars. Beh, ecco qui l'ho lanciato. Supponiamo di lanciare NumberVars, che è un predicato built-in del prologue, con tre argomenti. Il primo, essendo una qualche termine con delle variabili. Partiamo con indice 0, n sarà il numero che ci dice quante variabili abbiamo rimpiazzato nel termine che abbiamo passato al primo argomento. Intanto abbiamo rimpiazzato le variabili. Come vedete, il NumberVars genera, a partire dalla A maiuscola, B, C, D, in maniera incrementale, genera delle costanti per unificare le variabili, per rimpiazzare nel termine le variabili che sono state passate. Proviamo per esempio a lanciarlo con un termine più complesso. Abbiamo un termine G che ha due argomenti, una variabile XX è una struttura, un altro termine, con 1, 2, 3, 4, 5 variabili. Partendo da 0, NumberVars, ci rinomina da sinistra verso destra tutte le variabili che incontra, dando alla prima A, alla seconda B, alla terza C, così via, e ci dice che ha rimpiazzato 6 variabili. In pratica, ogni volta associa a una variabile diversa, una costante di Scolem diversa. Questo è quello che fa NumberVars, serve per, ripeto, in questo contesto servirà per dare un nome ad oggetti che non conosciamo, perché sarebbero oggetti che sono argomenti di predicati abducibili che andiamo ad utilizzare per aumentare le clausole del nostro sistema. Ok, allora, poi, che cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo andare a specificare la nostra teoria del dominio, e cioè, in pratica, dobbiamo andare a specificare quella che è la conoscenza riguardo al dominio, riguardo alle relazioni fra il funzionamento o il non funzionamento del nostro sistema. E quindi questa parte qui fa parte della teoria del sistema, l'assistente description. Noi diciamo che una certa lampada non si accende se nella lampada c'è una lampadina e la lampadina è fulminata. La lampada non si accende se nella lampada c'è nessuna lampadina. Questa è una costante, vuol dire che non è armata. Oppure un certo dispositivo non si accende se il dispositivo non è alimentato, e così via. Un certo, poi, cosa significa che non è alimentato? Sempre system description, un dispositivo non è alimentato se c'è un interruttore, se quel dispositivo è connesso all'interruttore, ma l'interruttore è rotto, nel senso che non, qui il FortiModels, in pratica che è rotto significa che non fa contatto. Oppure, non alimentato, un certo dispositivo potrebbe significare che esiste un fusibile all'interno del sistema, il dispositivo è conneso nel circuito con questo fusibile e il fusibile è interrotto, cioè è fuso. Ecco, poi dobbiamo dire che questi tre fatti farebbero parte della teoria dei vincoli e dobbiamo, questi sono vincoli molto semplici, dire semplicemente che c'è un oggetto che ha la propietà di essere un interruttore e c'è un altro oggetto che ha la propietà di essere un fusibile e poi abbiamo la lista dei predicati abducibili. C'è un predicato rotto con un solo argomento che potrebbe essere un abducibile, fuso con un solo argomento che può essere un abducibile, così fulminata, armata e connesso con due argomenti. Allora, salviamo il programma e lo lanciamo magari con il trace, così seguiamo passo passo come funziona questo meta-interprete che implementa l'abduzione in Prolong. dobbiamo spiegare che non si accende la luce nella sala e non si accende luce sala e il goal che verrà lanciato dal meta-interprete e in esse ci dovrà dare la spiegazione del perché non si accende la luce in sala. Allora, ecco, quindi il sintomo non si accende la luce nella sala, spiegami quali sono le cause. S matcherà con cause. Quindi viene lanciato il meta-interprete, abduci, a cui gli viene passato il sintomo chiedendogli che gli vengono risentite le possibili cause. Quindi abduci non matcha con true, non matcha con questo qui che il goal doppio, la clausola, ricordate, che gestisce due goal nel meta-interprete, matcha con la terza clausola del meta-interprete che c'è un solo goal. Quindi, come abbiamo visto nella precedente unità didattica, mediante il pericato di sistema close goal body, va a prendere il goal e non si accende la luce in sala, lo trova, trova una clausola nella descrizione del sistema, cioè che sarebbe il programma P, che ha come testa il pericato non si accende. A questo punto viene preso il body di quella clausola, lo andiamo a rivedere, che è armata e fulminata. Eccola qui, armata a luce sala con una variabile e fulminata quella variabile. Quindi qui questa sarebbe la lampadina che sarebbe nella lampada a luce sala. A questo punto si lancia abduci a cui viene passato il corpo. Il corpo è fatto di due goal e quindi matcherà con la clausola precedente. A questo punto si va a cercare una spiegazione del perché, cioè, si cerca di soddisfare il goal armata a luce sala. Armata a luce sala non corrisponde a una clausola del programma. A questo punto partono le due clausole aggiuntive del nostro meta-interprete abduttivo. Quella che va a vedere se armata a luce sala è già una causa, ma in questo momento cause è vuoto, per cui questo fallisce. E a questo punto si va a cercare se c'è un predicato abducibile che si può prendere in considerazione per soddisfare questo goal. Quindi viene effettivamente trovato un predicato abducibile armata con due argomenti. Quindi il primo argomento sarebbe luce sala, il secondo deve essere sostituito con una costante di Scolan. Essendo una sola variabile, si lancia a number var con un termico e una sola variabile, quella variabile viene rimpiazzata con A, N quindi diventa 1. E quindi abbiamo una lampadina nella luce sala che si chiama A. Sappiamo quindi che c'è una lampadina A. E a questo punto si va a prendere la seconda clausola, che era fulminata. A questo punto però X è stato già rimpiazzato con la costante di Scolan A, la variabile è stata rimpiazzata con la costante di Scolan A. Si cerca di spiegare che A sia fulminata. Non si trova una clausola nel programma. Si va a vedere se fulminata A è già parte di cause. No, questo anche fallisce. E quindi si va a cercare se c'è un predicato abducibile. E effettivamente fulminata è uno dei precati che si possono addurre. Però non c'è dentro variabili, per cui number var non fa praticamente niente. E abbiamo spiegato anche la seconda clausola. A questo punto questo abducibile ha avuto successo e quindi possiamo restituire al goal questa spiegazione. Abbiamo tentato una spiegazione che non si accende la luce sala perché, sì, nella luce della sala c'è una lampadina che si chiama A, ma questa lampadina A è fulminata. Adesso se chiediamo se c'è un'altra spiegazione cerca di risoddisfare il predicato close e viene restituita come altra spiegazione un'altra possibile spiegazione del fatto che non si accenda la luce in sala è che nella luce della sala non ci sia nessuna lampadina. Ancora un'altra spiegazione è che non si accende la luce in sala perché c'è la luce della sala è connessa a un interruttore ma l'interruttore è rotto quindi abbiamo azionato l'interruttore rotto cerchiamo ancora un'altra spiegazione e il sistema ci dice che nel circuito che alimenta la lampada in sala è inserito un fusibile e questo fusibile è un fusibile 1 qui non c'è stato bisogno della costante Schollen perché avevamo inserito che c'era un fusibile nel sistema e che è fulminato e poi chiediamo se ci sono ancora altre spiegazioni e il sistema ci trova anche un'altra spiegazione è che quindi c'è una lampadina nella luce della sala ma non è stata appagata la bolletta dell'Enel se chiediamo se c'è un'altra spiegazione non si trovano più altre spiegazioni e qui ci sono altre spiegazioni la bolletta dell'Enel io non l'avevo ricompilato sostanzialmente ha funzionato perché c'era questa nella system description c'era anche questa questa parte qui c'era questo vincolo di integrità che c'è una bolletta dell'Enel e c'era anche questa abducibile bolletta non pagata bene quindi che cosa abbiamo visto? abbiamo visto un altro approccio la diagnosi è un approccio che fa uso di un meta-interprete che implementa una forma di ragionamento che è direttamente il meta-interprete in pratica è costituito dalle tre clausole classiche di un qualunque meta-interprete a cui sono aggiunte due clausole che servono per addurre delle possibili spiegazioni qualora il meta-interprete puro non sia in grado di spiegare il sintomo osservato queste due clausole queste due clausole che vanno ad aggiungere i predicati abducibili li vanno a prendere da un repository di predicati abducibili e poi devo dire che avevo trascurato di dire che ovviamente il meta-interprete suppone di aver consultato un programma il programma è quello che ho evidenziato adesso qui che sarebbe l'assistente description è un'assistente description pensata però pensata come l'ho riportata qui per mettere in relazione per rappresentare tutti i possibili casi di malfunzionamento quindi sostanzialmente l'assistente description che spiegherebbe i malfunzionamenti se potessimo però appunto da sola non spiegare i malfunzionamenti a meno che non facciamo delle ipotesi che effettivamente sono veri anche delle cause aggiuntive che fanno riferimento ai predicati abducibili che vanno ripeto presi da un insieme di predicati abducibili questi tre sarebbero qui in questo esempio già con il ruolo dei vincoli di integrità bene con questo abbiamo chiuso questa unità didattica che ha presentato un meta interprete per fare il ragionamento abduttivo quindi ragionamento diagnostico implementato in prologue e questa unità didattica chiude anche tutto il modulo relativo alla diagnosi